Amici del campionato motori Taranto, ci troviamo allo stadio Erasmo Iacovone per assistere allo sfidone tra PM Grafica e My Friends FC. E sì, ci attende una gara ricca di cose fighe da vedere, perciò andiamo subito alla lettura delle formazioni, partendo dai padroni di casa della PM Grafica che schierano in porta Michele Fischietti. In difesa ci sono Tommaso Riondino e Francesco Luccarelli sugli esterni, mentre la coppia centrale è formata da Giuseppe Rabindu e Fabrizio Macri. I tre di centrocampo sono Luigi De Bartolomeo, Massimo Cianciaruso ed il capitano Marco Salamina. Il tridente offensivo vede Antonio Scarcia e Carmine Notari Stefano a supporto della punta Eugenio Coletta. Schema a speculare per i giallorossi di My Friends che schierano Giovanni Catapano a difesa della porta, Giuseppe Nitti, Francesco Fodi, Andrea Pizzolante e Guglielmo Predetto in difesa. La triade di centrocampo è composta da Mario Sabatelli, Andrea Di Cursi e Tommaso Lentini, mentre in attacco Donato Sebastio e Nicola Masella sosterranno il puntero Angelo Giudetti. Ale, non abbiamo più nulla da dire, perciò gustiamoci le fasi salienti del match. Lancio in avanti della difesa giallorossa. La ribattuta della controparte bianco-blu innesca la ripartenza di Notari Stefano che si porta al limite dell'area. La sua conclusione però si perde sul fondo. Giuseppe Nitti serve al centro per Nicola Masella che spaventa Fischietti con un sinistro a fulmicotone scoccato dalla lunga distanza. Palla a fil di palo. Calcio di punizione per i padroni di casa battuto da Cianciaruso direttamente in area di rigore. Salamina si inventa un numero d'alta scuola per sferrare il colpo vincente ma la gamba di Pizzolante gli rovina la festa. Al dodicesimo minuto arriva il vantaggio della PM grafica a coronamento di un'azione che definire da manuale sarebbe alquanto riduttivo. Il tocco finale è vincente di Coletta e la classica ciliegina su una torta di per sé già squisita. E' uno di quei casi in cui il commento è totalmente superfluo. PM grafica 1, My Friends 0. I giallorossi di My Friends non si fanno intimorire dal vantaggio bianco-blu ed anzi ritornano all'attacco con Sabatelli che rompe sulla destra entrando nell'area della PM. Lo scarico è per Masella che sfiora la traversa col suo sinistro bollente. La partita è di quelle serie e lo dimostra la manovra ben orchestrata che porta al pareggio giallorosso siglato da Mario Sabatelli. Autentica spina nel fianco della difesa bianco-blu. Veramente poderosa l'azione del centrocampista Ionico, il quale risulta quasi inarrestabile. Per ulteriori informazioni chiedere a Riondino e Rabindo. Lancio di Lentini sulla fascia destra per Donato Sebastio che innesca immediatamente Nicola Masella. L'attaccante giallorosso si porta a spasso l'intera retroguardia avversaria prima di tentare la conclusione in porta. Giuseppe Rabindo però ci mette il piede magnificando tutto il lavoro. Lancio interregionale di Antonio Scarcia sul quale si lancia Coletta in anticipo sull'uscita di Catapano che poi gli frana addosso. Il pallone accarezza delicatamente il palo prima di uscire. Calcio d'angolo per la PM grafica battuto da Cianciaruso. David Chiri devia di testa a botta sicura, Malentini ci mette la faccia e respinge sulla linea. Macri per allontanare la minaccia degli attaccanti giallorossi si inventa una parabola lunghissima che finisce per favorire l'inserimento di Martino D'Aversa che si dirige dritto verso l'area avversaria. Resiste anche il ritorno di Pizzolante prima di concludere appena fuori dalla porta difesa da Catapano. Traversone lungo di Pizzolante intercettato da Donato Sebastio che si produce in una discesa dir poco preponderante. Dopo aver superato tutti va a sbattere però contro l'uscita bassa di Fischietti. Antonio Scarcia vince il contrasto con Lentini e si catapulta in area sulla linea di fondocampo da dove poi cerca di beffare Catapano. Il disimpegno della difesa giallorossa viene intercettato da Chiri che di tacco serve Cianciaruso. Il pallonetto del numero 6 bianco-blu passa di un soffio sopra la traversa. I giallorossi di MyFriends tentano l'assalto finale imbastendo una manovra avvolgente che porta Ivan Cannizzaro nel pieno dell'area di rigore bianco-blu. Dopo aver atteso qualche istante butta il polno nel centro per cercare il colpo di carambola. Valentini non riesce ad approfittare dell'occasione più unica che rara. E si chiude quindi con un pareggio la battaglia sportiva tra PM Grafica e MyFriends. Ovviamente la divisione della posta non accontenta nessuno in campo ma noi ce la siamo spassata alla grande grazie a questi due squadroni. Bene, per ora è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana.